la prossima volta non basterà per te metterti a piangere e fammi contattare da tuo padre perché io le prove di quello che dico io non mi sono messo a piangere io ho contattato quello che viene live con te per dirti che avevo sbagliato perché l'audio era stato divulgato ma non lo avevo divulgato io te lo ripeto vai a denunciarmi almeno facciamo ridere un po gli avvocati non ci sono problemi però poi dopo ai giudici diremo anche quello che hai fatto te diremo quello che ho fatto io per te perché te se esisti se sei ancora una piccola caccolina su youtube è grazie a me che non ti ho denunciato e che ti ho riaperto il canale due volte quindi quello che piange e chiede scusa sei te non sono io attenzione sei te che fai amare da papà non sono io poi quello che offende per due anni un personaggio dicendogli che è il male dell'inter che è il difensore di zang che fa il male dell'inter che fa cattiva informazione sei te che dici e che sei talmente codardo da non riconoscerlo perché te fai il nome ma sei un codardo sei te che dici di iscriversi al canale sei te che dici quella persona dopo due anni che l'offendi che dici che è il servo di zang che dici che è il male dell'inter arrenditi sei circondato gli hai fatto migliaia di video hai preso anche una lettera di un legale sei te che ora dici iscrivetevi al canale quel signore sa tante cose già già su questo almeno i mononeuroni dovrebbero capire che personaggio sei non sei più credibile ma non sei mai stato credibile non sei mai stato credibile sei te che ti sei messo a piangere con me sei te che hai fatto chiamare a 40 anni papà non io io ho sempre fatte da sole le cose e io poi dopo ti ho riaperto il canale per due volte altrimenti te non saresti nemmeno mai esistito e forse sarebbe stato meglio te non puoi dare nessun avvertimento te sei te sei te sei una persona e secondo me va aiutata e che va fermata perché te fai solo danni e non fai paura a nessuno te secondo me non guardi nemmeno le partite dell'inter te guardi solamente il risultato e fai i video te lo dico io quindi vogliamo arrivare fino in fondo arriviamo fino in fondo a questo giro te te sei una persona che ha mentito perché ad oggi io a differenza tua posso dimostrare ma i tifosi dell'inter quei pochi e ancora ti seguono possono tranquillamente verificare che non c'è stato nessun passaggio di quote scaricando la visura camerale dell'inter perché dalla visura camerale dell'inter si può tranquillamente ancora vedere che ci sono i pegni di glass trust e di octree quindi se c'è ancora il pegno soltri vuol dire che non è stata liquidata e che non c'è stato nessun passaggio di quote ti sei spuntanato il problema è che te sei un codardo te non hai nemmeno il coraggio di ammettere di chi hai parlato dicendo di iscriversi al suo canale dopo due anni che lo hai offeso ma quello lì non ti ha calato nemmeno di striscio perché è furbo ci puoi aver parlato magari sotto banco ma quello col cazzo che ufficialmente ti risponde perché lo sa lo sa come muoversi a differenza tua dopo due anni che l'hai offeso il servo di zang non sa nulla prende in giro i tifosi dell'inter hai avuto il coraggio di dire iscrivetevi al suo canale ma poi sei un codardo perché fai solo il nome e la gente ti chiede ma ti riferisci a quel signore lì e te sei talmente codardo che dici no 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 io non mi riferivo a lui chi sarebbe allora questo qui che va in televisione fammi capire che si chiama con la m chi sarebbe ma strota chi è questo qui fammi capire hanno capito tutti chi sei ormai e ora io te lo dico qui ci batti il capo ci batti il capo ti ho graziato due volte tre volte ma ora qui te ci batti il capo di tutto quello non li cancellare i video lasciali online lasciali online e vami a denunciare lasciali online i video non li cancellare lasciali online abbia un po di coraggio tira fuori un po di coglioni se ce l'hai lascia i video online continua a dire che zanon ti ha detto che c'è stato il passaggio vuoto perché zanon io so per certo a te non ti ha detto c'è il passaggio vuoto te lo sei inventato te te ti sei inventato una cosa che non esiste come a rumai che ha un ruolo ad onorem e newcastle non è operativo è l'ora di farla finita devi chiedere scusa devi chiedere scusa e prima di parlare di me impara a sciacquarti la bocca perché io non potevo farti passare quella schifezza ti sei inventato te sei un quarantenne si risponde da solo nei video vai nei video con con tutti quegli account quegli account fake che hai creato il 4 novembre 2021 sei te l'ipocrita che spacci per insider gente che non sono insider che sono vicini a te con nomi falsi non sono io sei te il primo falso che truffa la gente non io ricordatelo bene torna sui tuoi passi dammi letta me continua a sparare continua ritorna a dire messi all'inter tutte quelle puttanate dicevi prima fai bravo perché a te la lezione vedi quando a me mi chiese tuo padre di rapirti il canale io gli ho dissi guarda questo non impara mai però è inutile io gli apri il canale perché questo poi continuerà a rompere i ognoni ed è quello che hai fatto non solo con me con tutti su youtube fatti una bella nice di coscienza perché qui non trovi paura pito non trovi paura fai tutto quello che ti pare ti aspetto va bene ciao inter grazie a tutti grazie a tutti